7 fatti sconosciuti e fuori degli schemi 1. Outside the box è stata la prima scelta per il titolo di questo lavoro il finale è come la lettera X della domanda 2. Inizialmente ho creato questo font alfabetico quadrato disegnando le lettere una per una 3. L'alfabeto è stato schematizzato in un formato scatolare con questo effetto di profondità 4. L'opera di poesia visiva partecipa nelle mostre del mio progetto Convergenze che ha già attraversato 8 paesi 5. Le immagini sono state esposte nello spazio espositivo dello studio d'artigrafiacello in Italia dove successivamente si è realizzato questa versione tridimensionale sotto forma di due scatole in cui la profondità reale è confusa con il grafico della profondità 6. Successivamente questa creazione, ora nella sua versione fisica, ha fatto parte della mostra dei libri d'artista 6. Stupor Mundi al Castello Svevo a Varleta, Italia 7. Dopo l'evento itinerante del gennaio 2024 alla Palazzina Cluana a Civitanova Marche 7. Il prossimo aprile riaprirà questa volta nella città italiana di Termoli e tutto mi fa pensare fuori dalle schemi 7. Dopo l'evento itinerante del gennaio di Termoli 7. Dopo l'evento itinerante del gennaio di Mo Tail Grazie a tutti.